L'hanno buttato Quando non ne avevano più bisogno Viveva per strada Prima che lo trovassimo Si spegneranno Se non troviamo un modo per aiutarli Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti Recuperiamo il possibile Da quelli disattivati Ma non è abbastanza Quindi come sopravvivono? Con niente Moriamo piano piano Moriamo piano Moriamo piano Moriamo piano Da quanto tempo sei qui? Quattro settimane, tre giorni e undici ore All'inizio non sapevo dove andare Jericho sembrava un posto come un altro Chi ha scoperto Jericho? Chi ha scoperto Jericho? Nessuno lo sa più Chiunque fosse probabilmente il suo corpo è qui da qualche parte A questa gente servono componenti e sangue blu Perché nessuno se ne sta occupando? Forse è così facile, non possiamo mica andare a chiederlo alla CyberLife E in ogni caso nessuno osa lasciare Jericho Se vuoi una vita facile hai scelto il posto sbagliato Se vuoi una vita facile hai scelto il posto sbagliato Quattro settimane Quattro settimane Quattro settimane Grazie a tutti. Simon! Così ci faremo ammazzare! Può darsi, ma è meglio che stare qui ad aspettare di spegnersi. Sono con te. Forse possiamo provarci. Ok, ci sto.